Serviranno ancora un paio di settimane, forse un mese per vedere la nuova luminosa di via Carducci. Nel frattempo l'area è stata liberata dalla vecchia struttura che è diventata un simbolo della città nel tempo, simbolo che risorgerà in chiave moderna, in chiave interattiva, tecnologica e quindi Smart in via Carducci tornerà una nuova luminosa e proprio perché la moderna concezione del manufatto sarà vocata alla tecnologia, sarà veramente luminosa. La futura luminosa, salvo imprevisti, sarà pronta a metà luglio. Lo studio metroarea incaricato del progetto ha ideato una struttura moderna, interattiva, ma che possa mantenere l'orma della struttura ormai dismessa. In questo momento in via Carducci l'area di cantiere ha ultimato la sua prima fase, ovvero quello della demolizione a cui seguire la posa della fibra ottica, quindi il rifacimento del manto del marciapiede. Nell'area di pertinenza verrà sistemato un fondo drenante prima di montare la nuova luminosa che verrà ancorata ai plinti già esistenti. Le parti della struttura saranno montate a moduli, infine saranno collocati i monitor installati dalla Govoni Impianti. C'è da fare una specifica. La luminosa, al contrario di quanto si possa pensare, è proprietà di un imprenditore che nel 2019 aveva scommesso sul manufatto con l'intento di trasformarlo in uno strumento pubblicitario tecnologico e di richiamo sia per chi ha conosciuto l'ex installazione che per chi invece non l'ha mai vissuta.